Open Day all'Istituto Tecnico Industriale Morselli con una proposta formativa davvero variegata. Oggi date il benvenuto a tutti i vostri nuovi potenziali iscritti. Siamo convinti di poter offrire delle opportunità per l'immissione immediata nel mondo del lavoro perché come certamente lei sa bene, il 44% degli studenti che escono da un istituto tecnico ben preparati trovano lavoro entro i sei mesi successivi e questo noi ne abbiamo riscontro concreto con i ragazzi che sono usciti l'anno scorso. Noi abbiamo una buona percentuale di studenti che già hanno trovato lavoro nel nord Italia anche perché abbiamo una forma di collaborazione con diverse imprese del Veneto, dell'Emilia Romagna che ogni anno ci chiedono i nominativi degli studenti che sono usciti con i voti migliori. Quindi penso che sia una bellissima carta d'identità quella dell'ITIS di Gela. Preside, questo è il suo esordio in questo istituto. Con quale spirito intraprende questa nuova avventura? E se vorrà valorizzare, così come prescritto dalla buona scuola di Renzi, appunto come accennava prima, all'alternanza scuola-lavoro? Io mi sono innamorata subito di questa scuola. Io vengo dalla scuola primaria, quindi questo mondo per me era un mondo nuovo. Però ripeto, ho trovato persone appassionate, persone entusiaste del proprio lavoro che subito mi hanno coinvolto. Tutto il personale è estremamente propositivo. Io sono una persona molto curiosa, mi piace mettermi in gioco. Quindi fin dalla prima settimana che sono arrivata ci siamo adoperati per preparare un progetto per l'alternanza scuola-lavoro, per le classi quarte e quinte. E abbiamo già avuto un finanziamento. Quindi partiremo già con il mese di marzo. Anche perché già sul territorio la scuola aveva dei legami con diverse imprese che sono molto disponibili ad accogliere i nostri studenti. E quindi già per il quarto e il quinto anno siamo già in partenza. Per il terzo anno stiamo acquistando dei software per l'impresa simulata in maniera tale che poi l'anno prossimo i ragazzi sono già preparati allo svolgimento di questa attività.